Prosegue la preparazione degli squali in vista della difficile sfida di domenica prossima, quando all'uscita arriverà l'Inter di Stefano Pioli. La sconfitta di San Siro contro la Sampdoria, se da una parte ha palesato alcune lacune, dall'altra ha motivato ancora di più una squadra che può contare su moltissimi campioni in grado di decidere la gara in qualsiasi momento. Ecco perché il Crotone deve preparare al meglio questa sfida. L'allenamento di ieri, sempre sul terreno di steccato di Cutro, è iniziato in palestra per poi proseguire sul campo, dove Nicola ha diviso la sua rosa in quattro squadre da cinque calciatori, che sono state protagoniste di partitelle a campo ridotto, molto intense. Anche l'allenamento del giovedì è previsto in mattinata, ma questa volta allo stadio Ezio Scida, dove tutti i sostenitori Rosso e Blu sono invitati ad assistere, accedendo all'impianto dalla Curva Nord. Intanto per domenica si prevede quasi il tutto esaurito, sono infatti rimasti disponibili solo alcuni biglietti di tribuna, mentre tutti gli altri settori sono al completo. Presente al primo Calabria Open di MMA Grappling, tenutosi domenica 2 aprile presso il Palacro, anche l'assessore allo sport e turismo Giuseppe Frisenda, soddisfatto per la riuscita dell'evento e per il grande lavoro che la società Guardia Crotoniata sta svolgendo. Sì, abbiamo puntato su questa manifestazione che la Guardia Crotoniata mi ha proposto, quindi il Comune di Crotone non poteva che essere al fianco di questa associazione sportiva giovanissima, ma comunque con dei grandi progetti e questa è la dimostrazione. Abbiamo un Palacro pieno, quindi significa che quando si fa sport e se lo si fa a certi livelli si hanno anche degli ottimi risultati. Questa è la Crotoni che vogliamo e per fare la città dello sport a 360 gradi, quindi non soltanto sport più conosciuti, ma anche il Grappling che magari in questo momento è meno conosciuto, ma che sta prendendo molto piede. Io sono arrivato, ho trovato una situazione degli impianti sportivi un po' disastrosa, la manutenzione straordinaria non è stata praticamente fatta o è stata fatta poco e quindi ci siamo trovati di fronte a queste problematiche. Ovviamente sono già intervenuto, il 31 dicembre, quindi l'ultimo giorno disponibile, ho già reperito i fondi per sistemare la copertura del Palacro, è stata affidata alla ditta i lavori per l'impermalizzazione di questa struttura che è anche un po' particolare. Quindi mi auguro che settimana prossima si potranno iniziare i lavori con questa ditta che si è giudicata all'incarico.